E' sempre più fuga per curarsi dal sud al nord dell'Italia, ma nei dati c'è lo zampino del Covid. Nel 2021 la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 4,25 miliardi di euro, ben il 27% in più di quello del 2020, 3,3 miliardi, anno in cui l'emergenza pandemica Covid-19 ha determinato una netta riduzione degli spostamenti delle persone e dell'offerta di prestazione ospedaliere ambulatoriale. Dal monitoraggio attuato dalla Fondazione Gimbe emerge che Emilia-Romagna, Lombardia-Veneto raccolgono il 93,3% del saldo attivo, cioè l'attrazione di pazienti provenienti da altre regioni, mentre il 76,9% del saldo passivo, la migrazione dei pazienti, dalla regione di residenza si concentra in Calabria, Campania, Sicilia-Lazio, Puglia e Abruzzo. In Calabria nel 2021 è stato registrato un saldo negativo pari a 252,4 milioni. Nel dettaglio la regione ha introitato circa 36 milioni di euro di crediti per pazienti non calabresi, finendo in 18esima posizione a livello nazionale e sborsando 289 mila euro per i corregionali che si sono recati fuori per potersi curare, circostanza che la colloca in quarta posizione nella classifica italiana. Ancora dal monitoraggio Gimbe vieni fuori che la regione si colloca in dodicesima posizione con le strutture private che erogano il 38,7% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale, media Italia 54,7%. La mobilità sanitaria, sottolinea il Presidente della Fondazione Nino Carta Bellotta, è un fenomeno dalle enormi implicazioni sanitarie, sociali, etiche ed economiche che riflette le grandi disuguaglianze nell'offerta di servizi sanitari tra le varie regioni e soprattutto tra il nord e il sud del paese. Un gap è diventato una frattura strutturale destinata ad essere aggravata dall'autonomia differenziata che in sanità legittimerà normalmente il divario nord e sud amplificando le inaccettabili disuguaglianze nell'esigibilità del diritto costituzionale alla tutela della salute.